Il turno infrasistimanale di Serie D ha creato un primo spacco nella classifica del Girone H. La nocerina capolista continua a presidiare la vetta del raggruppamento a quota 22, ma domenica il Casarano proverà ad accorciare significativamente dopo aver battuto la Virtus Franca Villa al Capozza. Gli imperiali, reduci da due sconfitte consecutive, sono adesso secondi in compagnia dei rossazzurri salentini ed ospiteranno alla nuova Redo Arena il Brindisi ultimo in classifica a meno 8, reduce da tre pareggi nelle ultime quattro. Al di fuori del podio ecco Matera e Palmese, chiamate ad affrontare rispettivamente Martina in casa ed Angri in trasferta. Gravina e Nardò al momento al di fuori della zona playoff ed appaiati a quota 13 si sfideranno al Giovanni Paolo II, impianto in cui i Granata non hanno ancora vinto in stagione nonostante i quattro successi esterni. La Fidelisandria ha ingranato la marcia giusta e dopo tre vittorie consecutive non ha intenzione di fermarsi. I federiciani saranno però ospiti di un Manfredonia penultimo ed assetato di riscatto. Il Franca Villa in Sinni, imbattuto da ben quattro turni, se la vedrà tra le muramiche del Fittipaldi contro l'Ischia, mentre Lugento, dopo tre K.O. in rapida successione, proverà a rialzare la testa contro la Cerrana. Scontro da zona playoff invece, quello che vedrà protagonisti nella città della Selva, Fasano e Costa d'Amalfi, ad oggi separate da appena un punto nei bassi fondi della classifica.